Musica Amici, buonasera, qui c'è un bello troppo Una volta c'era la buca dell'orchestra, adesso c'è la frattura del comico Allora, questa sera parliamo di consumi, noi tutti siamo consumatori c'è chi è più consumato di qualcun altro e chiamo gli ospiti sul palco con me Comincio con Rocco Di Blasi, direttore del Salvagente Online Fate un applauso, fingete di essere pubblico E poi, per l'associazione dei consumatori, Stefano Borsari di Adi Colson Fate un altro applauso, fate, falla, fate E anche Fausto Pucillo di Codici Abbiamo anche pari defantini della Lega SPI-CGL perché non lo vedevo di là si era seduto lì che era più interessato a vedere cosa dicevano gli altri Certo, questa è una crisi che ha una dimensione, un radicamento, una durata alla quale non eravamo abituati da molto molto tempo Tuttavia, in questa crisi possiamo cogliere, ritengo, anche un'opportunità cioè può diventare l'occasione in cui un consumatore veramente consapevole e magari anche raccogliendo i suggerimenti di quelle istanze sociali di quegli mediatori sociali che sono anche le associazioni dei consumatori può premiare le imprese virtuose a discapito di quelle invece che alla fine non fanno gli interessi dell'economia e dei consumatori Tutto questo in teoria sembra facile poi tradurlo in pratica è altro discorso e teniamo presente che do un piccolo contributo è stato detto che fino a qualche anno fa si spendeva chi più spende più guadagna indiscriminatamente è vero tra l'altro ma fino a un certo punto ricordiamo che l'Italia da questo punto di vista è sempre stato un popolo formica, non ci cala Intanto assistiamo sempre al grande dilemma fra qualità e prezzo pressoché irrisolvibile perché tutti vorremmo coniugare queste due espressioni al meglio avere ottima qualità e un prezzo largamente competitivo dovendo scegliere oggi sicuramente si privilegia il prezzo e dico io purtroppo a scapito della qualità Visto dalla parte dei commercianti quelli che sono stati intervistati mi sembrano assolutamente come dire sfiduciati e con una prospettiva di brevissimo respiro perché tutti quanti hanno cercato di ridurre i prezzi per attirare più persone puntando probabilmente sulla quantità più che sulla qualità è chiaro che comunque un mercato di questo tipo non porta da nessuna parte anche per quanto riguarda le tutele nei confronti del consumatore cioè il consumatore comunque ha diritto secondo me a vedere riconosciuto una qualità del prodotto se si punta esclusivamente sul prezzo evidentemente questo aspetto viene trascurato I giovani non hanno più un lavoro unico hanno un lavoro che va a periodi chi ce l'ha contratto di sei mesi chi ce l'ha di un anno chi ce l'ha addirittura di tre mesi i giovani come dice la signora intervistata comunque non rinunciano a una vacanza solo che chi ha un contratto di tre mesi o di sei mesi la sua pausa di quanto può essere in vacanza può essere il mese che si faceva una volta ma neppure i 15 giorni e forse neppure la settimana e allora abbiamo queste vacanze di tre giorni di quattro giorni di una settimana stretta che si parte il lunedì e si torna la domenica sera e questo è il turismo che sta funzionando il resto, quello a cui eravamo abituati quello stanziale delle famiglie dei figli, dei bambini delle cose è una cosa che riguarda una fascia molto più alta della popolazione cioè la crisi l'ha pagata il ceto medio più basso il ceto medio alto se ne frega perché sta a livelli di sopravvivenza molto superiori forse non di sopravvivenza l'ipermercato non ha paura del mercato è vero comunque che nel mercato locale si possono trovare dei prodotti più freschi e a prezzi maggiori e mi ha colpito quella affermazione di Cagnola dove ha detto che la gente non capisce che la mela è la stessa però la paga la metà di meno qui da noi che se lo va a prendere nell'ipermercato è confezionata, la vede in un altro modo ma la paga il 50% in più ma la paga il 50% in più